Promoserio Eventi, eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e in Valle di Scalpe. Buonasera e bentornata al consulto appuntamento con gli eventi di Promoserio. Sabato 29 aprile a Clusone, alle ore 16, presso il santuario della Santissima Trinità del Colle Crozio, si terrà Dante Alpinista, una lettura a spettacolo dedicata al sommo poeta. Lettura a cura di Alice Redini, alla tromba Stefano Costantini, direzione artistica a cura di Giuseppe Frangi di Casa Testori. Partecipazione gratuita senza prenotazione, si consiglia di portare con sé una coperta da posizionare a terra. Il santuario della Santissima Trinità è raggiungibile esclusivamente a piedi, percorrendo il sentiero che parte in Viale Gusmini, posto dietro al supermercato Conad. Tempo di percorrenza, 30 minuti circa. Continuano con gli appuntamenti con la rassegna ad memoria. Sabato 29 aprile, alle ore 21 a Parre, si terrà presso la parrocchia di San Pietro Apostolo il concerto di Trombone e Oboe, a cura di Francesco Verzillo e Mauro Borri. Ingresso libero. Sesto appuntamento con la rassegna Albino Classica. Sabato 29 aprile, alle ore 21, presso la chiesa parrocchiale San Martino, a Cinate Sotto, si terrà il concerto recita al chitarristico in omaggio a Vittorio Fellegara. Alla chitarra, Pietro Bonaguri. Domenica 30 aprile, Bergamo Jazz esce dalla città per celebrare in Val Seriana l'International Jazz Day, nei pressi della sorgente Nossana di Ponte Nossa, una delle principali sorgenti gestite da Niacque. Il concerto On the Bare Rocks and Glaciers si terrà alle ore 15 e sarà a cura di Francesco Chiapperini. Prima del concerto sarà possibile partecipare a visite guidate alla sorgente Nossana, accompagnati da personali di Niacque, dalle ore 13.30 alle ore 14.30. Martedì 2 maggio, alle ore 20.45, presso il Santuario Vecchio di Santa Maria Nascente di Villa di Serio, si terrà un concerto del Quartetto Tais, che proporrà un repertorio di brani dal 600 al 900, scelti dal maestro Antonio Brenna, per ripercorrere la storia in musica della Prighiera Mariana per l'Eccellenza. Ingresso Libro. Per questo appuntamento è tutto, vi ricordiamo che potete trovare maggiori informazioni su tutti gli eventi della settimana in Valseriana e in Valle di Scalve sul portale www.valseriana.eu e prenotare le vostre esperienze direttamente alla piattaforma online. Arrivederci e buona serata. Promoserio Eventi, eventi e manifestazioni della settimana in Valseriana e Valle di Scalve.